Da dove nasce la sua idea di raccontare la malattia, una malattia come l'epilissia in un romanzo? L'idea nasce dal racconto che mi è stato fatto tanti anni fa, da una persona che ha vissuto una storia molto simile a quella raccontata nel romanzo. Mi è parsa una storia formidabile e il racconto della malattia mi è sembrato un'ottima opportunità per parlare di altre cose, di guarigione per esempio. La malattia in questo romanzo rappresenta un'opportunità anche per il protagonista, anzi per i due protagonisti direi? Proprio così, la malattia rappresenta un'opportunità per scoprirsi di due persone apparentemente vicine, in realtà lontanissime, padre e figlio, e un'opportunità per scoprire un talento che era stato rimosso e cancellato per ragioni che bisogna leggere il libro. Non è la prima volta che lei in un suo romanzo racconta di una malattia o comunque del mondo medico-scientifico, l'ha fatto in un altro romanzo con la psicoterapia. Come fate ad entrare così nel dettaglio? Io credo che si debba studiare, si debba leggere i libri, si debba parlare con gli specialisti e soprattutto parlare con gli interessati. In quel caso e in questo caso ho parlato con molti pazienti e la visione, il punto di vista del paziente è quello più istruttivo per raccontare buone storie.